Studio del canto gregoriano, offertorio del giorno di Natale, Tui sun cieli. Si trova a pagina 49 del libro graduale romano, intonazione da Sol. Per studiare utilizzerò la tastiera, poi quando sarà da cantare bisognerà cantarlo senza accompagnamento. Tui sun cieli, Per studiare utilizzerò la tastiera, poi quando sarà da cantare bisognerà cantare. Per studiare utilizzzerò la tastiera, poi quando sarà da cantare bisognerà cantare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Scuola Gregoriana Mediolanensis, Basilica di San Marco, Italia, Milano, Italia. Tuoi sono un cielo.